Sono orgoglioso, sono felice e forse sono anche commosso. Ho fatto tutto quello che potevo, tutto. E ora ho l'orgoglio e la felicità di dare il Palermo nelle migliori mani possibili. La mia eredità è questa, la mia eredità è il futuro. È il futuro che il Palermo merita e che ho sempre sognato. Serie B importante la notizia che vediamo perché ieri c'è stato l'incontro decisivo tra il presidente Mirri e i rappresentanti del Citigroup. Sappiamo dalle storie del Palermo, sappiamo dall'importanza del Palermo nella città di Palermo e per noi questa è un'opportunità fantastica. Il caso del Palermo è diverso, tutti i nostri club sono trattati di forma diversa. La storia del Palermo è singolare, è diversa, è grande. Il Palermo sta per passare di mano, il Palermo sta per diventare il club italiano di proprietà di Mansur, di proprietà del Citigroup. Noi arriviamo oggi per aiutare, per aiutare di più. Il nostro sogno, il sogno di tutti i palermitani è andare in Serie A. Nella nostra esperienza non si arriva al successo senza stabilità. Nell'istoria del Palermo c'è un momento in cui in 11 anni il Palermo ha avuto 28 allenatori. Non si può lavorare così. Il futuro del Palermo è sicuro, è sicuro che nei prossimi 5, 10, 20, 25 anni il club sarà sicuro. Si vede la necessità di investire in un centro sportivo. Ma questo stadio è un stadio fantastico. Non è che c'è tanto da fare. Il lavoro più importante adesso, penso per noi, è convincere i palermitani di venire allo stadio. Lavoro, intelligenza e pazienza. Ma sognare, sogniamo tutti. E poi il Palermo potrà continuare a sognare dopo la promozione in Serie B anche con la proprietà del Citigroup. Lavoro.